Organizzato dal Consorzio GEMA, questa mattina si è tenuta presso la biblioteca di Villa Bruno qui a San Giorgio a Cremano un convegno sulla ecosostenibilità. Quello che vedete alle mie spalle sarà lo strumento indispensabile per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera del biossido di carbonio. Fattura 400 milioni di euro. Questa iniziativa, il caso di grazie a quelli che stanno avvicinando su questo dato. Quello di oggi è la presentazione del Carbon Footprint. Che cosa significa? Significa che attraverso questo procedimento si coinvolgono migliaia di città di amministrazioni pubbliche in un impegno di riduzione dei gas climaalteranti tra i quali ci sta l'anidride carbonica, il biossido di carbonio, ci sta il metano ed altri gas. In particolare bisogna intervenire su alcuni settori che vengono elencati puntualmente, tra i quali quello del trasporto, perché il trasporto incide fortemente sulle emissioni naturalmente di gas in atmosfera. Per semplificare, questi gas in atmosfera modificano il clima, favoriscono la fusione, ad esempio, dei ghiacci, provocano alterazioni climatiche che ormai sono evidenti anche direttamente, fisicamente, a parte poi gli studi che dimostrano la resistenza, la costante di questi cambiamenti. Il protocollo di Kyoto e una serie di impegni dell'Unione Europea spingono affinché ci sia un impegno da parte delle amministrazioni per queste riduzioni. Oggi noi siamo qui a parlare della possibilità di ridurre le emissioni attraverso nuove tecnologie applicate al trasporto, nel caso specifico, di mezzi destinati al servizio di raccolta dei rifiuti, in particolare raccolta differenziata perché o è raccolta differenziata o non è più, secondo la legge italiana. E questo deve essere un esempio perché dall'impegno di migliaia di amministrazioni derivano poi cambiamenti reali, concreti. Non c'è da scherzare, il rischio è andare troppo avanti e poi i processi diventano irreversibili. Lo scioglimento, anzi più correttamente la fusione dei ghiacciai, porta con sé una serie di conseguenze inimmaginabili che già incominciamo a pagare per una serie compressa di fenomeni legati ai cambiamenti del clima. Quindi non vanno prese queste iniziative sotto gamba. Il Parlamento europeo, tanti Stati, penso alla stessa Cina che è tra i maggiori responsabili, gli Stati Uniti, si stanno adoperando, investendo in nuova tecnologia ma anche in nuove occupazioni per far fronte a questo problema. La situazione reale in Campania, com'è la risposta dei sindaci della regione e com'è stata? Beh, già molti sindaci hanno aderito a questo patto dei sindaci, è stato sottoscritto. Il patto dei sindaci implica che poi il Comune entro un anno avvii una serie di iniziative perché entro un anno dalla firma il Parlamento, l'Unione Europea accetta o rifiuta questa adesione se non ci sono state delle misure adeguate, insomma un piano di interventi. E questo non è una cosa di secondo momento perché chi non partecipa a queste iniziative risce di essere escluso definitivamente dai contributi pubblici, dai contributi europei. Questo diventa un discrimine, vale per le amministrazioni pubbliche come vale per le aziende nelle quali per concorrere ad appalti europei devono rispondere a una serie di criteri, di requisiti senza i quali non possono partecipare. La città di San Giorgio a Cremano è la città capofila di questo progetto che prevede entro il 2020 la riduzione del 20% dell'emissione del biossido di carbonio nell'atmosfera. È un impegno importante sulla linea del protocollo di Kyoto, sono molto orgoglioso che la nostra città sia in capofila e io ritengo che questa sia una cosa che abbia una valenza non solo regionale ma nazionale, mondiale proprio. Credo che gli enti locali debbano fare la loro parte e noi la faremo. Abbiamo già per quanto riguarda il parco delle auto pubbliche dotato i nostri dipendenti della possibilità di utilizzare auto elettriche. Naturalmente l'investimento più forte si potrebbe fare sull'edilizia immobiliare, sull'edilizia scolastica, sugli edifici pubblici, utilizzando appunto fondi di energie alternative. Questo richiede uno sforzo notevole da parte di chi amministra, uno sforzo notevole da parte di chi collabora, di dirigenti, richiede però anche da parte dello Stato una collaborazione. Nel senso che i tagli agli enti locali ci stanno facendo veramente male. Stamattina ci sarà la presentazione di questo compattatore Carbon Footprint, una nuova idea tecnologica per cercare di dare una mano all'atmosfera e soprattutto all'ambiente. Infatti noi siamo qui per questo, proprio per essere eruditi e eruditi il più possibile su queste nuove tecnologie avanzate che ci consentiranno di raggiungere quello che ci proponiamo, cioè la riduzione del 20% delle emissioni di osse di carbone entro il 2020. Fra l'altro anche la data, 20-20% dovrebbe portare bene. Dottore, lei è medico, lei è primario di dermatologia, c'è qualche attinenza tra l'ambiente e le malattie dermatologiche? Beh diciamo sicuramente l'inquinamento ambientale influisce negativamente sullo stato di salute e quindi anche sull'acute che è proprio la prima spia del malessere di una persona. è necessario, però non è quella poi la risposta sanitaria più negativa, ce ne sono altre e parlo soprattutto e penso alle forme oncologiche per le quali è necessario proprio impegnarsi tutti quanti, non solo a San Giorgio ma in tutto il mondo. Come dice il protocollo di Chiota appunto. Nei confronti non solo a vostro ma nei nostri figli e nei nostri difunti, che poi è la cosa che è la cosa che è la proposta sanitaria. Cioè questo lo dico alla Gemma. Grazie. Noi iniziamo da qui, città ecosostenibile. Sì, il consorzio Gemma è nato nel 2009, dandosi un'impronta noi facciamo impresa, quindi è giusto che un'impresa abbia degli utili e produca utili, ma non è solo quello. Abbiamo cercato di fare un'azienda che abbia dei valori, io la chiamo un'azienda etica. Quando la prima volta ho sentito questa parola non riuscivo a capire cosa si poteva fare. Ho pensato che ognuno debba fare la sua parte. Noi come azienda abbiamo pensato di investire tutti i nostri automezzi da qui in poi, utilizzando mezzi che abbiano un basso impatto ambientale. Questa è stata la scelta aziendale, che diciamo il valore di questa iniziativa e questa città rappresenta il fatto che sia da pungolo delle amministrazioni, perché ognuno deve fare la sua parte, i cittadini per quanto riguarda quello che devono fare loro, le imprese per quello che possono fare e le istituzioni per quello che devono fare. Penso il car sharing, il big sharing, sono tutte le iniziative che le amministrazioni possono mettere in campo. E in una città come questa, dove noi ci troviamo a lavorare, penso che ci siano, io dico l'humus adatto, c'è una coscienza civica abbastanza forte dove le tematiche ambientali sono molto sentite. Nella città di Massimo Troisi, perché sappiamo tutti che San Giorgio è la città che ha dato i Natali al grande comico napoletano. Diciamo che la città è la città capofila di questo progetto. Per quanto riguarda le altre amministrazioni, avete trovato terreno fertile per questo progetto oppure avete incontrato delle difficoltà? No, è la scelta di partire da qui, perché qui è stato fatto un lavoro molto selettivo per quanto riguarda le raccolte differenziate, ma non dimenticherei San Giuseppe Vesuviano, dove siamo vicino al 60% di raccolta differenziata, Giuliano dove siamo partiti da zero e dovremmo andare questo mese tra il 50% e il 60%. Sono risultati che un anno fa erano impensabili, adesso sono realtà. È chiaro che la scelta di partire da qui è perché diciamo era stata la nostra prima esperienza importante come consorzio sul territorio. Questa è la scelta, poi l'ho detto prima, su questo territorio c'è un humus particolare, si può lavorare, c'è un'ottima amministrazione che è sensibile a queste tematiche, c'è un gruppo dirigente nel settore ambiente che ascolta quando gli si portano dei consigli utili sia al raggiungimento professionale ma anche a altri tipi di obiettivi. Spieghiamo un po' nei termini tecnici, che cos'è questa macchina, questo carbon footprint? Il carbon footprint è una parola che in italiano significa impronta del carbonio, vuole significare che ognuno deve fare la sua parte per emettere per le emissioni in atmosfera, almeno il famoso gas a serra. È chiaro che facendo ognuno la propria parte, noi come azienda ci siamo impegnati a utilizzare questo tipo di automezzi. Partendo da qui, questa iniziativa non è solo la presentazione di questa macchina ma si vuole dare un segnale anche alle amministrazioni per fare in modo che seguano su questo percorso. Noi ci troviamo a lavorare molto sul napoletano per scelta, diciamo è stata quasi una... Scelta vincente. Scelta vincente, perché poi bisogna... Lo sai bene, ho trovato molta più tematica, noi abbiamo delle grandi realtà nel Salernitano per la raccolta differenziata ma siamo ancora indietro su alcune cose, su alcune tematiche nel napoletano ci sono realtà in cui si può ragionare veramente. Grazie. Grazie.